Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si mantiene regolare su strade e autostrade della Toscana. In FIPRI segnaliamo tratto chiuso per lavori tra Livorno-Aurelia e il bivio SGC Firenze-Livorno a 12 Genova-Livorno in direzione Firenze. Possibili disagi inoltre, ancora una volta per cantieri tra Montelupo e Ginestra nelle due direzioni. Si tratta di interventi all'altezza del turbone. L'ultima pagina, in conseguenza dell'emergenza sanitaria coronavirus, raccomandiamo di limitare al massimo ogni spostamento non necessario. Segneremo inoltre che è in vigore l'ordinanza dei Ministeri dell'Interno e della Salute che vieta di uscire dal comune nel quale ci si trova a salvo motivi di necessità. Fortemente rimodulati inoltre i servizi ferroviari, aerei, marittimi e il trasporto pubblico locale su tutta la Toscana. Anteriore i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città meropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!